Saranno i 90 minuti dell'Avicor Stadium Selvapiana di Campobasso a catalizzare molte delle attenzioni della giornata numero 26 del Girona F di Serie D. In Molise a casa della capolista arriva infatti la visita dell'Avezzano che da un impegno con un'altra molisana è appena rimasto scottato, il Termoli. Lo 0-0 tra le mura amiche dopo una prestazione decisamente sotto tono impone ai Biancoverdi di provare a tentare il colpaccio lì dove finora è riuscito solo l'Aquila nel girone d'andata. Per il resto la squadra di Rosario Pergolizzi non ha quasi mai sbagliato davanti al proprio pubblico. Non sarà facile per un Avezzano che era tornato a sorridere lontano da casa nel derby di Chieti e poi si è subito fermato con un pareggio e una prova tutt'altro che indimenticabile al Dei Marsi. Di questa sfida potrebbe approfittare l'Aquila che dopo il successo esterno di misura a Riano grazie a Banegas riceve la visita del Fano galvanizzato dalle cinque reti messe a segno domenica scorsa ai danni del Chieti. In questo frangente i Granata sono avversario scomodo ma l'Aquila ha un'occasione grande data dal calendario che peraltro vedrà la San Benedettese che ha appena cambiato allenatore fare visita proprio al Termoli e al Cannarsa senza il proprio metronomo Andrea Rigoni. Cappellacci potrebbe confermare la 343 che sta dando buone sensazioni e al contempo anche ottimi risultati. Inoltre il tecnico ritrova dopo la squalifica anche Lorenzo Del Pinto in mediana in rete nell'ultima gara interna vinta Coltivoli. Dalla parte opposta Manoni perde Mancini sempre per squalifica i tre punti domani per l'Aquila significherebbero pressione ulteriore da consegnare alle altre compagini che sono in alto in graduatoria. Chi invece deve ad ogni costo provare a fare il risultato è il Chieti che riceve il vasto Girardi e con la curva Volpi che lascerà vuoto il proprio settore per i primi 20 minuti di gioco. Troppo umilianti le cinque sberle rimediate domenica scorsa a Fano così come il ruolino del girone di ritorno fatto di cinque sconfitte e solamente tre pareggi che hanno portato i Nero Verdi a scivolare fuori dalla zona playoff e a doversi guardare addirittura alle spalle. Possibile che Luiso possa tornare a concedere spazio in difesa all'esterno Caterino. Nel corso degli anni può capitare, ogni stagione è fatta di tanti momenti, alcuni più positivi, alcuni più negativi. Il morale della squadra ovviamente non è al massimo, però la squadra è consapevole che non può piangersi addosso, che deve aspettare questa domenica come se fosse una finale e deve dimostrare che non è quella che è stata nelle ultime partite. È stata una giornata storta, ne abbiamo parlato tanto, forse troppo questa settimana e adesso dobbiamo pensare soltanto a Vasto Girardi. Quindi dobbiamo affrontare la partita con il coltello tra i denti e sudare fino all'ultima goccia di sudore perché è troppo importante per noi, per il nostro cammino, per il proseguo della stagione e per non rovinare quello che è stato fatto di buono in precedenza. Dopo le tre partite in una settimana con sei punti su nove, il notaresco torna al Savini per affrontare il Riccione, che si appresta ad un altro ribaltone in panchina. Il presidente Cassese infatti ha deciso di cambiare il nuovo allenatore e darà il ben servito a Riolfo dopo che era stato assunto il 9 ottobre scorso per sostituire Nico Pulzetti. Al suo posto in arrivo Mattia Graffiedi, che ha già dato la sua disponibilità al presidente, che nell'ultimo anno e mezzo ha guidato con buoni risultati il Forlì. Romagnoli senza Andoi, appiedato dal giudice sportivo, tutt'altra area in casa notaresco che recupera tutti e che è a un punto, forse due, dalla matematica salvezza. Qualche dubbio nelle tre zone di campo, Belloni davanti non si tocca, la spinta del pubblico amico potrebbe essere decisiva per conquistare quello che manca. Al primo obiettivo stagionale, per poi pensare anche a qualcosa di più grande.